Oggi volevo parlarvi di due sostanze che hanno un notevole impatto sulla riduzione del rischio tumorale e utilizzate in sinergia ancora di più. Uno di queste è il licopene che più o meno conoscete tutti. Il licopene è un carotenoide con potentissima azione antiossidante e proprio da qui deriva la sua azione antitumorale che è presente in determinati vegetali soprattutto del colore rosso, primo fra i quali il pomodoro che ne è particolarmente ricco. Il licopene è biologicamente più attivo soprattutto se è estratto in situazione di calore quindi per esempio funziona di più se noi consumiamo il pomodore cotto per esempio nella salsa di pomodoro. Il licopene esercita la situazione antitumorale noi sappiamo soprattutto per esempio nei confronti del tumore alla prostata ma anche nei confronti del tumore al seno e di altri tumore. L'altra molecola di cui vi volevo parlare forse meno conosciuta ed è il sulforafano. Il sulforafano è una molecola che è presente soprattutto nelle brassicacee cioè nei broccoli, nei cavoletti di Bruxelles, nei cavoli e quasi tutti noi sappiamo che in effetti i broccoli sono conosciuti per essere degli alimenti antitumorali e sembra che di fatti consumare 4-5 volte alla settimana questa tipologia di alimenti riduca del 30-40% il rischio di contrarre un tumore. Ma il principio attivo responsabile di ciò è appunto il sulforafano che è una sostanza sulforata che ricca quindi di gruppi sulfidridici o tiolici come li vogliamo chiamare che per esempio sono in grado anche di essere dei precursori per la formazione del glutatione e il glutatione è un potentissimo antiossidante ed è tra l'altro un antiossidante fondamentale per la funzione corretta del nostro sistema immunitario soprattutto in chiave TH1 che è quella responsabile proprio di aggredire sia i virus e i batteri ma anche le cellule tumorali. quindi il glutatione potenzia la normale funzionalità dei linfociti che sono le nostre cellule che distruggono le cellule tumorali appena formate. Ma il sulforafano agisce in maniera antitumorale anche con altri meccanismi per esempio è anche un relativo blando antiestrogeno cioè per esempio è in grado di inibire parzialmente l'azione dell'aromatasi che è un enzima appunto che produce gli estrogeni e noi sappiamo come gli estrogeni in eccesso possono favorire il tumore soprattutto al seno ma anche alla prostata. Inoltre il sulforafano agisce inibendo gli enzimi deacetilasi istoniche migliorando l'espressione dei geni soppressori i tumori che normalmente nelle cellule tumorali sono silenziati. Ecco quindi vedete che questa sinergia tra sulforafano edicopene è utile sia nella prevenzione del tumore al seno ma anche del tumore alla prostata perché comunque questi due tumori sono dei tumori di tessuti che dal punto di vista embriogenetico sono simili e quindi sensibili alle stesse variazioni e modulazioni ormonali.